In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno. Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. L'uomo nella prosperità non comprende, ripete il Salmo 48. E oggi aggiungiamo, non comprende e pretende. Perché chi pretende non è il povero, bensì il ricco. La pretesa è il motore dell'avidità, della cupidigia. È un cuore pretenzioso, è un cuore malvagio, ricco di se stesso, di ambizioni, di potere. Chi cerca un segno è la generazione malvagia, dice Gesù. Chi invece vede il segno è la generazione buona. Perché il segno non è qualcosa che ti è dovuto per diritto, non è la medaglia per la vittoria, non è l'applauso per il tuo discorso e non è neppure il ricambio per il tuo saluto. No, il segno è puro dono, assoluta sorpresa, Gratuità al cento per cento. Il segno è generato dalla provvidenza ed è riconosciuto dagli occhi del cuore. Tutto è segno per chi crede. Ma chi crede è il povero, colui che non pretende. Il povero era Francesco con i suoi compagni. Io Francesco, coi miei compagni, Fra Masseo e Frate Maggio, piedi scalzi sempre in viaggio sulla strada polverosa. Poco pane, poco pane, per mangiare, tanta terra, tanta terra, per dormire. Rondinelle del Signore è uno zingaro il vostro cuore. E sulla strada, la strada stretta, polverosa, che porta in cielo, d'ogni cosa saremmo senza. Se sorella, provvidenza, non venisse incontro a voi, perché siete di quelli che non hanno paura, perché siete di quelli che non vogliono niente, 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 e non comprate, e non vendete, e non prestate, e non riapete, perché voi soli siete certi che io ci sia. E seminate la speranza per la mia, un grappolo d'uva e una fonte chiara non mancherà. Vai, Francesco, coi tuoi compagni, centomila, piedi scalzi, tasche vuote e cuore in festa. Dal tuo seme una foresta. Grazie allora dei tanti reprei che affollano la nostra app. La Quaresima è sempre un risveglio spirituale. Vi invitiamo anche a comunicare i pensieri di pace nella playlist Quaresima di Pace. Grazie. Buon cammino di Quaresima a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.